amici del canale eccoci qua ben ritrovati saluto a tutti e oggi abbiamo ritardo sono riuscito a ritagliare un po di tempo e un paio d'ore due lanci così qualche gomma e non si sa mai ciao ragazzi quando si viene a pescare queste cose qui a me non piacciono e lo dico in senso così senza fare nessuna nessun rimprovero nessun niente ma ci andiamo a pescare no un portalenze no non ci serve più ci si rompe mettiamolo nella cassetta e lo buttiamo a casa io non riuscirò mai a capacitarmi di questo atteggiamento di alcune persone che il mare va rispettato ragazzi perché non mi stancherò mai di dirlo ma io adesso questa la prendo me la porto a casa e la butto io sai che vi dico che io mi faccio due lanci con un bel vtd sono qui allora giusto qualche lancio con vtd e passiamo a una gomma che sta qui una piombata da 14 grammi allora troviamo con un momotti 140 colorazione dovrebbe essere la rb se non erro vediamo un po proviamo con il famoso black minno e vediamo un po' allora proviamo con il drake 150 due lanci giusto giusto così allora carissimi amici il mare sta iniziando ad alzare un po' e magari questi giorni se riesco ci riprovo niente relax abbiamo provato diverse gomme ho provato un po' di tutto ci sono ci sono un po' di cefali che saltano qui ma nulla nulla di che ma noi ci godiamo sempre il momento come dico sempre mai mollare questa è la situazione del mare ci becchiamo alla prossima ciao ragazzi